no no tu passi giusto perché ai 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 ma se lo allarghi qua perché non vuoi due chiodi no devi farlo alto bravo devi farlo alto alto allora era giusto ma manetta ho la pedivella guarda che cazzo qua guarda che cazzo qua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.